In A1 In A12 code a tratti per lavori tra Carrara e Sarzana verso Genova In Fipili per lavori code tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze Un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno Per questi lavori è entrata chiusa a Montelupo Fiorentino verso Livorno Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze Rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici verso Firenze Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!